Musica Padula ha presentato la nuova area PIP in un incontro pubblico con imprenditori e cittadini. Sant'Arsenio Andrea Vricella si dimette da assessore e lascia alla maggioranza le spiegazioni in un manifesto pubblico. Sicignano degli Alburni confermata la fermata per i quattro intercity come da richiesta dell'assessore Matera Panetta ora potenziare i collegamenti su gomma. Monte San Giacomo avviso per la gestione dell'impianto sportivo. Padula sabato e domenica festeggiamenti presso l'eremo di San Michele alle grottelle disponibile servizio navetta. Buonasera e bentrovati alla TG di Uno News. Ieri sera presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo a Padula l'amministrazione comunale ha illustrato a cittadini e imprenditori il progetto per la realizzazione della nuova area PIP e il regolamento per l'acquisizione dei lotti in località Pozzi. Vediamo. Ieri sera l'amministrazione comunale di Padula ha incontrato imprenditori e cittadini per presentare il progetto di realizzazione della nuova area PIP di località Pozzo e spiegare il regolamento per l'acquisizione dei lotti. Presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo alla presenza anche del responsabile del procedimento, l'ingegner Michele Tamburini, è stato illustrato il progetto e le caratteristiche dei lotti che variano tra i 1.200 e i 5.000 metri quadri. Una serata di confronto per tutti nel corso del quale, partendo dal progetto base così come previsto dall'amministrazione comunale, è stato anche possibile acquisire nuove idee provenienti dalla platea costituita per gran parte da imprenditori che hanno potuto mettere la loro competenza e la loro esperienza al servizio del progetto. Al tavolo dei relatori il sindaco Paolo Imparato e Giovanni Cancellaro, consigliere comunale delegato alle attività produttive. Ogni membro dell'amministrazione comunale ha comunque contribuito con idee e valutazioni sulla stesura del progetto che si pone anche come obiettivo quello di evitare la costituzione di insediamenti produttivi a macchia di leopardo, danneggiando l'immagine del territorio comunale e l'ambiente. Inoltre, come sottolineato da Giovanni Cancellaro, far sorgere attività produttive in aree non ben identificate richiede anche un maggiore dispendio di risorse economiche. Ha affrontato anche il tema relativo al costo per il singolo lotto fissato a 54 euro a metro quadro, un costo che, come sottolineato dai diversi esponenti dell'amministrazione comunale, si è cercato di ridurre al massimo con una parte delle spese di cui si è fatto carico il Comune. Inoltre, il primo cittadino ha sottolineato come al momento ci si sta già attivando per la candidatura del progetto a finanziamenti al fine di ridurre ulteriormente i costi. La nuova area PIP di Padula, al servizio di diversi comuni della parte sud del Vallo di Diano, prevede la realizzazione di due rotatorie di accesso e di uscita dalla zona industriale. La prima, ubicata a ridosso dell'uscita autostradale Padula-Bonabitacolo dell'A2 del Mediterraneo, in collegamento con la Bussentina, che, come affermato dal sindaco Paolo Imparato, sarà realizzata a spese dell'ANAS, che ha già dato la sua disponibilità. Mentre una seconda rotatoria sarà realizzata nei pressi del supermercato, quindi a ridosso del bivio di Padula-Scalo. Ora c'è la cronaca. Un 23enne della provincia di Potenza è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte, una pattuglia della stazione di Bonabitacolo, nei pressi dello svincolo autostradale Padula-Bonabitacolo, ha fermato per un normale controllo una Mercedes, con a bordo il giovane, che si è mostrato indifferente alle domande dei militari, affermando di tornare da un viaggio e di avere una cesta di panni sporchi da lavare e che avrebbe proseguito verso la costiera cilentana per qualche giorno di vacanza. I militari insospettiti hanno perquisito l'autovettura, trovandovi occultati e avvolti tra i vestiti, quattro involucri di stupefacente, contenenti circa 180 grammi di marijuana. All'esito delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato circa 1.400 semi di cannabis, nonché 10 grammi di hashish e diverse bustine per il confezionamento. Con un marchio con il simbolo dello Yin e Yang, il giovane è ora agli arresti domiciliari. Ora parliamo di lotta all'evasione fiscale. Per combattere l'evasione arrivano gli ISA, indicatori sintetici di affidabilità, ovvero delle vere e proprie pagelle fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2017, con il decreto legge 59 del 2017. Il software per la compilazione è pronto, l'agenzia delle entrate ha rilasciato una prima versione, quella definitiva arriverà a breve. Ma vediamo i dettagli. Per combattere l'evasione arrivano gli ISA, gli indicatori sintetici di affidabilità, delle vere e proprie pagelle fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2017. Il software per la compilazione è pronto, l'agenzia delle entrate ha rilasciato una prima versione, quella definitiva arriverà a breve. Con i nuovi ISA, che quest'anno prendono il posto degli studi di settore, verrà dato a ciascun contribuente un voto da 1 a 10. È previsto uno speciale regime premiale con una serie di vantaggi burocratici per chi consegue un punteggio pari o superiore ad 8, chi invece riceverà un voto pari o inferiore a 6, oltre a non aver diritto ad alcun beneficio, potrà subire controlli mirati da parte dell'agenzia delle entrate. Da questa rivoluzione vengono toccate circa 4 milioni di partite IVA e stando alle stime elaborate dal SOS e la Società per gli Studi di Settore, un milione e mezzo di lavoratori autonomi non otterrà la sufficienza, risultando quindi non affidabile sul piano fiscale. Tra i vantaggi previsti per chi raggiunge un punteggio pari ad 8, vi è per esempio l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50 mila euro maturati sulla dichiarazione 2019. I contribuenti che arriveranno ad 8,5 saranno anche esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Quelli con livelli di affidabilità pari o superiore a 9 saranno pure esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative. I contribuenti con un voto basso rischieranno di essere inseriti in apposite liste selettive per futuri controlli. Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha firmato la proroga di 20 giorni per i versamenti relativi agli indici sintetici di affidabilità. La scadenza è quindi stata rinviata a lunedì 22 luglio. Voltiamo pagina, c'è la politica, un corteo di ambulanze per celebrare l'elezione di Franco Alfieri a sindaco di Capaccio Pestum. I video hanno fatto il giro del web scatenando un botta e risposta tra polemiche e giustificazioni. Ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Un corteo di ambulanze nel centro cittadino per celebrare l'elezione di Franco Alfieri a sindaco di Capaccio Pestum. Un video divenuto virale sui social è ripreso dalle principali testate giornalistiche e tv nazionali, suscitando indignazione e polemiche. A denunciare per primo come vergognoso l'episodio è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano. Sette ambulanze a Sirene Spiegate hanno fatto il corteo per tutta la città celebrando il neosindaco Franco Alfieri. Le ambulanze in questione sono di proprietà della società Squecco, di Roberto Squecco, già condannato per estorsione con metodo mafioso e la cui moglie è stata eletta nelle liste di Alfieri. Stringata quanto durissima la replica di Franco Alfieri. Si è trattato di un episodio di cattivo gusto dal quale mi dissocio completamente. Una presa di distanza netta dal fattaccio e dallo stesso Squecco che in una propria nota stampa invece porge le scuse al neosindaco e ai cittadini bollando il corteo di ambulanze come un semplice atto goliardico. Un rincorrersi di video e comunicati stampa che ha catapultato Capaccio Pestum alla ribalta nazionale per un episodio definito trash ed inqualificabile da giornali e telegiornali nazionali. Ci spostiamo a Sant'Arsenio. Andrea Vricella ha deciso di affidare ad un manifesto pubblico le motivazioni che lo hanno spinto verso la decisione di lasciare il suo incarico da assessore e la maggioranza consigliare. Ma vediamo. Nel pomeriggio di ieri è spuntato un manifesto pubblico a Sant'Arsenio in cui l'assessore di missionario Andrea Vricella spiega alla cittadinanza le motivazioni che lo hanno spinto verso la decisione di abbandonare il gruppo di maggioranza e rimettere le deleghe assegnategli. Non sembra quindi intenzionato a tornare sui suoi passi e cercare di ricomporre la frattura con il resto del gruppo da cui ha deciso di dissociarsi. Nel manifesto pubblico Andrea Vricella, ringraziando quanti lo hanno sostenuto e scusandosi per la sua decisione, lascia intendere in maniera velata come il disaccordo tra alcuni componenti la maggioranza sia stato alla base della sua scelta. Nel manifesto infatti si legge «Ho constatato che mi sono trovato in una compagine di persone per bene che vogliono spazio per poter amministrare per il bene di voi cittadini poiché ho provaricato con la mia voglia di fare e di risolvere problemi dal più piccolo al più grande e anche in competenze che non mi appartenevano mettendo, continua Vricella, gli altri componenti fantasma di questa amministrazione in condizioni di non poter operare per il vostro bene». Con queste parole spiega quindi in maniera velata, seppur pungente, il motivo della sua decisione, parlando poi in modo più deciso di voler lasciare spazio a chi invece in passato lo ha accusato di nutrire interessi personali nella sua attività di amministratore. «Rimango consigliere indipendente», continua Andrea Vricella nel manifesto, rimanendo vigile su tutto ciò che si farà, se si farà. L'assessore Vricella nel manifesto rivolto alla cittadinanza ha voluto sottolineare come, dopo la sua elezione in questi primi due anni, nel gruppo di maggioranza e da assessore, ha cercato sempre di impegnarsi per risollevare le sorti di Sant'Arsenio. Cambiamo argomento. Arriva la conferma ufficiale che saranno quattro gli intersiti che si fermeranno alla stazione di Sicignano degli Alburni a partire dal 22 giugno. Rocco Panetta, a tal proposito, chiede ora alla Regione di attivarsi il prima possibile per favorire i collegamenti su gomma con il Vallo di Diano. Confermata e accettata integralmente la richiesta dell'assessore regionale Corrado Matera presentata a Rete Ferrovie Italiane per potenziare il servizio di collegamento della tratta Roma-Taranto con la fermata Sicignano. Secondo quanto annunciato dall'assessore Matera, saranno quattro gli intersiti che raggiungeranno e sosteranno a Sicignano degli Alburni a partire dal prossimo 22 giugno. Si tratta di una richiesta che, come già noto, punta in particolare a cercare di far raggiungere il Vallo di Diano in vista anche dei progetti varati dalla Regione Campania per la promozione del territorio da un maggior numero di turisti da intercettare nei flussi diretti verso Matera Capitale della Cultura 2019. In riferimento al collegamento DAE per il Vallo di Diano interviene il Presidente del Comitato Proferrovia Sicignano-Lago Negro che evidenzia come è ora indispensabile per la Regione Campania di attivarsi affinché si predisponga a un servizio di collegamento con le stazioni valdianesi attraverso il servizio sostitutivo. C'è la necessità, più volte sottolineata, vista che abbiamo questa fermata, che la Regione Campania, che è titolare del contratto di servizio ferroviario con Trenitalia, in cui è incluso anche il servizio sostitutivo con autobus, ordini, e lo può fare tranquillamente in un minuto, a Trenitalia di attivare delle corse di autobus e servizio sostitutivo Trenitalia da Sicignano, Polla, Sala Consilina, Montesano, quindi veloci e viceversa, in coincidenza con l'arrivo e partenza di questi due treni. E' da dire anche un altro fatto, che il comune di Bellamoro, piccolo centro, su cui gravitano 30.000 abitanti rispetto ai 100.000 abitanti che gravitano sul bacino d'utenza della Siciliano-Lago Negro, su input dell'assessore regionale dei trasporti della Regione Basilicata, ha chiesto e ottenuto dal Ministro dei Trasporti, perché il servizio intercity è pagato dal Ministro dei Trasporti, la fermata di tutti e quattro gli intercity presenti, circolanti sulla Taranto-Roma, per tutti i giorni dell'anno. Quindi ci vuole un'azione forte da parte della Regione Campania per ristabilire un'equità rispetto a ciò che hanno ottenuto le Regioni Basilicata, garantendo anche i collegamenti con autobus del servizio sostitutivo e pretendendo che a bordo di questi autobus ci sia anche del personale viaggiante di Trenitalia, i capi treni, per l'assistenza ai viaggiatori. Esattamente come auspicato da Panetta, quindi l'azione dell'assessore regionale Corrado Matera ha consentito di ampliare il numero di fermate degli intercity presso la stazione di Siciliano degli Alburni. La conferma ufficiale dell'accettazione della richiesta dell'assessore Matera è arrivata al termine della presentazione del programma relativo alle fermate e varato da Trenitalia, che conferma le soste a partire dal 22 giugno per le corse sulla tratta Roma-Tarranto per tutti e quattro gli intercity richiesti, ossia i numeri 700, 701, 702 e 707. Voltiamo pagina. Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, venerdì scorso, ha salutato l'anno scolastico in chiusura con una grande festa che ha coinvolto tutti i ragazzi dell'istituto. Divertimento, balli, risate e un ricco buffet per una serata che ha visto insieme come grandi amici, docenti e alunni in una palestra dove a farla da padrone era il clima di famiglia e di unità della scuola. La serata di festa di fine anno è stata anche occasione di bilanci per un anno straordinario in cui i ragazzi hanno raggiunto grandissimi risultati e importanti conferme delle loro straordinarie capacità, riuscendo ad emergere anche a livello nazionale per le loro doti. Importante poi questo anno scolastico 2018-2019 perché ha rappresentato l'anno battesimale del liceo quadriennale. Una leggera apprezzione per le novità didattiche all'inizio dell'anno, ma nel finale invece si registra grande entusiasmo per un corso di studio che ha portato grandissimi risultati dimostrando l'eccezionalità dei giovani studenti, dello scientifico e dei loro docenti. Abbiamo seguito la festa di fine anno del liceo scientifico Pisacane e abbiamo raccolto le parole della vicepreside Carmela Pessolano e dello studente Gianmarco Ungaro, rappresentante dell'istituto, che tracciano un bilancio di questo anno scolastico appena trascorso e salutano gli allievi che si apprestano a vivere l'emozione degli esami di maturità. Ascoltiamoli. È stato un anno veramente eccezionale, abbiamo suggellato il successo già degli anni precedenti, sia dal punto di vista delle iscrizioni, delle novità che abbiamo portato con la dirigente Fersola in questo istituto. I ragazzi sono entusiasti, stasera ce lo stanno dimostrando ancora una volta. La nostra offerta formativa si è ampliata veramente in maniera positiva. Che dire, siamo veramente contenti, entusiasti. Quello che ci interessa più di tutti è che i ragazzi in questa scuola stanno bene, vivono veramente la scuola in maniera intensa e noi di questo non possiamo che essere contenti. La prima cosa che ci sta a cuore è proprio il benessere dei nostri ragazzi. Quest'anno è stato il primo anno del quadriennale, possiamo già tracciare un bilancio? Di bilancio estremamente positivo, i ragazzi hanno lavorato benissimo, siamo già pronti con la seconda classe che noi avremo, quindi l'anno prossimo avremo di nuovo il primo anno di quadriennale. È una sperimentazione eccezionale, prepara i ragazzi alla vita universitaria immediatamente dopo i quattro anni, in linea con quelle che sono le caratteristiche della scuola europea. Ormai bisogna comunque andare verso questo modo di concepire la scuola e non nego che noi, quello che abbiamo adoperato, le nostre metodologie che abbiamo adoperato nel quadriennale, l'abbiamo estese anche a tutte le altre classi del liceo, in modo particolare nelle prime, in quanto ci siamo resi conto che veramente i ragazzi rispondono veramente bene a questi stimoli. Per cui benvenga la sperimentazione, è andata bene, però ha portato delle novità anche per quanto riguarda le altre classi. Così diciamo anche per quanto riguarda il futuro indirizzo biomedico, abbiamo avuto tanti iscritti, abbiamo già un potenziamento in atto, quindi quello che possiamo portare a questi ragazzi del Vallo di Diano come novità noi veramente ce la mettiamo tutta, perché i ragazzi del Vallo di Diano devono avere le stesse possibilità di scelta che hanno tutti quanti i ragazzi nelle grandi città. Questo evento è la dimostrazione della serenità che si vive qui al liceo di Padula, proprio come si vive bene tra insegnanti, alunni e in questo momento in cui lasciamo alle spalle un momento abbastanza movimentato, viene di interrogazione e di compito, ci vuole proprio un momento di danza, di ricreazione. Abbiamo cominciato con una festa dello studente per dare il benvenuto alle prime e finiamo con un'altrettanto festa, con il ballo di fine anno scolastico, stile quello americano, The Prom Night. Quest'anno abbiamo voluto dare anche un tema a spasso nel tempo, dagli anni 60 agli anni ad oggi, con i costumi, per la musica, penso che sia un bel modo di concludere quest'anno scolastico. Si vede proprio che chi viene in questo liceo c'è un percorso interiore di, non solo a livello didattico, ma proprio come persona, anche io grazie alla rappresentanza l'abbiamo dimostrato, quindi venire al liceo scientifico al di là delle nozioni, quindi delle competenze scientifiche e umanistiche che si apprendono, ma per capire chi si è veramente e cercare di affrontare la vita con coraggio e con la testa alta. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. L'associazione Michele Sarli consegna ad uno studente dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, la borsa di studio per un corso di specializzazione per pizzaioli, istituita grazie al ricavato del terzo Memorial dedicato alla giovane. Vediamo. Il 28 maggio scorso si è tenuta la terza edizione del Memorial Michele Sarli, un'iniziativa benefica in memoria del giovane padulese tragicamente scomparse in un incidente stradale poco più di tre anni fa. Il Memorial si tiene ormai da tre anni e ogni anno il ricavato è destinato ad un'azione solidale. Quest'anno, con tutti i soldi raccolti durante la manifestazione, è stata istituita una borsa di studio per un corso di specializzazione per pizzaioli da donare allo studente più meritevole dell'Istituto Alberghiero di Sant'Arsenio. A riceverla è Valeria Pepe di San Rufo. La cerimonia di consegna avverrà giovedì 13 giugno alle ore 10 presso l'Istituto Sacco diretto dalla professoressa Rosaria Murano. La serata dello scorso 28 maggio era incentrata sulla pizza, arte di cui Michele era maestro. Pizzaioli, valdianese e nonno hanno proposto una pizza d'autore a loro scelta da far degustare al pubblico presente. Si è svolta nella pizzeria Al Picchio Nero di Padula Scalo, locale dove Michele ha iniziato la sua carriera di pizzaiolo. Una serata di grandi emozioni e molto partecipata. La riuscita dell'evento ha permesso all'Associazione di istituire la borsa di studio che sarà consegnata giovedì mattina. Ci spostiamo a Monte San Giacomo. Nessuna provocazione questa volta. L'amministrazione comunale di Monte San Giacomo intende affidare in concessione la gestione dell'impianto sportivo comunale Gaetano Romanelli. Ed ieri la pubblicazione dell'avviso. Il comune di Monte San Giacomo dà in gestione l'impianto sportivo Gaetano Romanelli dopo la provocazione di qualche settimana fa quando erano apparsi ovini a brucare l'erba del campo. Una decisione, affermò il sindaco Raffaele Accetta, assunta deliberatamente dall'amministrazione comunale dopo i numerosi tentativi di dare la struttura in affidamento tutti caduti nel nulla. 15 riprova. Ieri è stato pubblicato un avviso rivolto ad operatori del settore interessati a gestire l'impianto dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2021. L'impianto è composto da una struttura polivalente, campo da tennis, calcetto, scoperta con manto erboso sintetico, un campo da calcio con manto in erba naturale, due tribune separate per locale d'ospiti e relativi servizi igienici, un corpo spogliatoio, parcheggio e aree verdi annesse. Possono farsi avanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'albo, le federazioni sportive nazionali, le associazioni e le società regolarmente affiliate alle federazioni e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La durata dell'affidamento è di due anni prorogabili e il corrispettivo è di 10 euro al mese. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato al 21 giugno prossimo. Il Comune si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto in concessione, mentre al concessionario spetta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, il pagamento delle utenze, oltre al diretto coordinamento di ogni attività svolta nelle strutture. Voltiamo pagina. Ad Atena Lucana nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Proloco Atena Nova. Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto dal presidente Mariella Di Santi, vicepresidente Colomba Giordano, segretario Davide Langone, cassiere Rosario Bruno, concludono la squadra Gianni Mario D'Ambrosio e Ciro Monzillo. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da Maria Pessolano, membri effettivi sono Maria Giovanna Vricella e Felicia Abate Chechile, membri supplenti Nola Beatrice e Cono Femminella. È un impegno importante quello che abbiamo preso insieme ai membri del CDA e del collegio dei revisori dei conti, dichiara il neopresidente, ma sono sicura che lo svolgeremo con la massima attenzione e serenità perché tutti noi, assieme agli oltre 60 soci della Proloco, abbiamo in comune l'amore per le nostre tradizioni e per la nostra storia e per il nostro territorio e abbiamo tutti lo stesso obiettivo, la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Cambiamo argomento, sabato 15 e domenica 16, due giornate dedicate all'eremo di San Michele, alle grottelle e alla sua lunga storia, due appuntamenti di fede e di cultura con il comitato festa che ha previsto anche il servizio navetta per agevolare la partecipazione dei cittadini. Lo storico sito religioso di San Michele alle grottelle di Padula sabato e domenica prossima sarà protagonista, come ormai di consuetudine, delle tradizionali celebrazioni della festa di San Michele. Il comitato festa per agevolare la partecipazione ha anche deciso di predisporre un servizio navetta che accompagnerà i partecipanti della suggestiva e storica località. La sua antica storia, risalente molto probabilmente all'età costantiniana, racconta di un luogo sacro in cui il tempo si è fermato e dove l'arte e la cultura di un popolo sono impresse nella pietra. Con la due giorni di celebrazioni religiose e di festa si presenterà anche l'occasione per ammirare da vicino, trascorrendo anche alcune ore e mezzo alla natura, le straordinarie bellezze che caratterizzano l'antico luogo religioso custode di arte oltre che di storia. Seppur costruito in epoca costantiniana, dedicandolo sin da allora al culto dell'arcangelo, il sito dove sorge l'eremo di San Michele alle grottelle a Padula sembra fosse già in uso in epoca pagana quando pare fosse frequentato per il culto del dio Attis. Si tratta di un luogo suggestivo ma anche prezioso per la presenza di affreschi risalenti al 300. Sabato 15 e domenica 16 si terrà quindi la tradizionale festa dedicata a San Michele alle grottelle. Sarà possibile vivere la suggestiva aria su cui sorge l'antico santuario rupestre, caratterizzata da una roccia rientrante che ospita gli affreschi raffiguranti, l'incoronazione della vergine, la Madonna con bambino e una dormizio marie. Nello stesso luogo sorge poi la grotta dove si può visitare la tomba di Bernardino Brancaccio, abate del convento di San Nicola al Torone, posto più in basso della chiesa stessa e dal quale dipendeva. Nella chiesa trova posto un altare su cui è collocata una statua di San Michele e dietro all'altare un'edicola contiene un ciclo di affreschi riguardanti la vita di San Giacomo di Compostela. I festeggiamenti prenderanno il via sabato 15 giugno con la celebrazione presso l'eremo della Santa Messa prevista per le ore 20.30. Domenica 16 giugno la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.30. Al termine è prevista la processione che dall'eremo si dirigerà verso l'antica Cosilinum e la cappella del San Sepolcro. Per raggiungere il sito il Comitato Festa ha messo a disposizione un servizio navetta con jeep che sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 11 con partenza dal parcheggio antistante del cimitero di Padula. Ora andiamo a Sassano, una giornata dedicata ai bambini per raccogliere giocattoli usati per altre attività e questa è l'iniziativa dell'associazione Il Solco Germogli di Resilienza in programma il 20 giugno nella villa comunale a Silla di Sassano. Dopo un interessante convegno sull'autismo e la disabilità in età evolutiva svoltosi nello scorso mese di aprile l'associazione Il Solco Germogli di Resilienza scende nuovamente in campo con un'importante iniziativa di solidarietà. Appuntamento il 20 giugno nella villa comunale a Silla di Sassano dalle 18 alle 20 con il Summer Park dedicato a tutti i bambini con la presenza di gonfiabili e attività ludiche. L'evento sarà l'occasione per raccogliere giocattoli usati che saranno utilizzati dall'associazione per le prossime attività che saranno messe in campo per i bambini dalle educatrici ed esperte di pedagogia. Il Summer Park è aperto a tutti i bambini che si presenteranno con un loro vecchio giocattolo da donare per il Summer Camp 2019, un campo estivo rivolto ai bimbi speciali, ai loro fratellini e sorelline e ai loro amichetti dai 3 ai 6 anni, che si terrà dal 1 luglio al 2 agosto ad Atena Lucana, come ha spiegato la vicepresidente dell'associazione Il Solco Maria Trezza. Vi invitiamo a questa festa magnifica dedicata ai bambini che doneranno i loro giocattoli per una nobile causa. Tutti i giochi verranno usati dalla nostra associazione per tutte quelle che saranno poi le nostre attività, quindi a partire dal Summer Camp che invece si terrà dal 1 luglio al 2 agosto all'auditorium ad Atena Scalo. Vi aspettiamo per festeggiare insieme e passare insieme una giornata di allegria. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci, vi auguro un'ottima serata. Grazie.